Davide ci chiede si può utilizzare l'ayahuasca in solitaria zitto zitto quattro quattro ho fatto un video analogo e prima di rispondere sentiti libero libera di condividere questo messaggio perché è giusto è giusto che sempre più persone innanzitutto conoscano questa grande pianta maastra quindi questa grande pianta maestra che è ayahuasca era tutto con la ayahuasca ayahuasca quindi grande pianta maestra ed è giusto che sempre più persone possano vivere in pace gioia felicità serenità armonia per tutti i secoli dei secoli è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e per me è un privilegio condividere quello che apprendo girando in giro per il mondo dall'Africa al Sud America al Nord America Canada India le Indie India Filippina tra il mondo visibile e invisibile e vabbè adesso bando alle ciance puoi bere in solitaria st'ayahuasca sì o no Luca sì certo tuttavia non all'inizio questo è un mio suggerimento personale a chi suggerisco di bere l'ayahuasca in solitaria a quelle persone che hanno già fatto diverse cerimonie con maestri con sciamani con facilitatori ciamalo come te vol ti e magari vogliono approfondire la conoscenza della pianta e si ritagliano del tempo per iniziare a bere da soli per iniziare ad avere maggiore consapevolezza sulle proprie reazioni il suggerimento è di iniziare a piccolissimi dosaggi poco alla volta ma a parte che se inizi a bere da solo ormai dovresti già conoscere i tuoi dosaggi quindi se non conosci ancora i tuoi dosaggi non conosci le tue reazioni non conosci come rispondi non ha senso iniziare a bere da solo e è un'esperienza molto bella anche questa e di conoscimento è una fase di ricerca non tutte le persone sono interessate a questo tipo di ricerca quindi è qualche cosa che è riservato a un gruppo di persone che vuole approfondire la materia in modo diverso io faccio sempre l'esempio tu potresti amare lo sci ma non essere interessato a diventare un maestro di sci ok quindi qualora tu volessi diventare un maestro di sci allora metaforicamente paragonandolo al mondo dell'ayahuasca allora iniziare a bere da solo ti può essere utile perché inizi ad entrare in connessione ancora più profonda con la pianta perché sei tu mamma te tu e l'ayahuasca questo è quanto però non farlo all'inizio non farlo come prima esperienza nemmeno come seconda nemmeno come terza nemmeno come quarta esperienza devi avere pratica con la pianta e con diversi sciamani deve passare del tempo devono passare mesi 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 anni prima che tu possa fare questo tipo di cosa questo è un mio suggerimento personale poi fai quel che te volte sei grande e quindi fai quello che senti giusto per te questo è ciò che mi sento di dirti di cuore dopo aver avuto grande connessione con questa pianta meravigliosa da questo è tutto io ti saluto ci vediamo prossimo video prossimo audio prossimo post ciao ne condividi